Registrati tre decessi a Torre del Greco, avevano più di 70 anni. Un dato spiacevole quello di oggi che ci fa riflettere su quanto il virus sia ancora purtroppo letale. Il comune Corallino registra anche quattro nuovi casi di contagio, attualmente in isolamento domiciliare. Sono invece 25 le persone guarite, una cifra molto importante soprattutto se rapportata al boom di guarigioni degli ultimi giorni. Tuttavia altri 118 tamponi sono stati effettuati ed i risultati arriveranno nei prossimi giorni. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 270 attualmente positivi, di cui 15 ospedalizzati. Torre Annunziata invece registra una sola guarigione con 5 nuovi casi positivi su 88 tamponi effettuati. Aumenta dunque il numero di positivi attuali che arriva ad 80, un dato che speriamo si abbassi nei prossimi giorni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS